. Kaia Gerber, a soli 16 anni, ha già la carriera di una top model. L'abbiamo vista, timida ragazzina, per mano a mamma Cinghi, Crawford, e a papà Rande Gerber. . Oggi, Kaia Gerber la ritroviamo sulle più importanti passerelle del mondo, a calcare la scena insieme a modelle che di anni ne hanno 10 o 20 più di lei. Sempre gentile, super entusiasta, la piccola Kaia ha iniziato alla grande la sua carriera di top model. . I primi passi e la svolta. Non è solamente la figlia, bellissima, di Cinghi Crawford, Kaia Gerber ha ereditato dalla mamma un fortamento fiero. Che, insieme al suo volto dai tratti unici, la rende una modella perfetta. . E ha in effetti dato prova nonostante i suoi giovanissimi 16 anni, peraltro compiuti solo il 3 settembre di esserlo davvero, una modella. . Nonostante il suo cognome, e nonostante la madre più che una top model sia una leggenda. Del resto, una modella, Kaia Gerber lo è fin da quando aveva 10 anni, e posava per la linea Young di Versace. . Stare sul set con mia figlia, e vederla posare di fronte alla macchina fotografica, è stata un'esperienza fantastica, raccontava all'epoca mamma Cinghi Crawford. Che, ancora oggi, è sempre in prima fila ad applaudire la sua bambina. . Il vero e proprio debutto come modella, però, Kaia l'ha vissuto lo scorso anno. A febbraio del 2016, ha posato per la sua prima campagna d'alto profilo, per il marchio Chrome Arts. . . Il mese dopo, ecco la ritratta per la campagna primaverile di Alexander Bang, seduta su di un bancone mentre mangia un donuts, Kaia Gerber posa come una modella navigata. E segna il punto di svolta della sua carriera. . . A marzo del 2016, è insieme alla madre sulla copertina dell'edizione francese di Vogue. Un traguardo a cui ogni modella ambisce, e che lei ha raggiunto quando aveva solamente 14 anni. . Fotografata da Mario Testino, con stiling di Emanuele Haute, la giovane Kaia commentando quell'esperienza confessava di non riuscire a respirare dell'emozione. . . A giugno del 2016, la piccola Gerber finisce davanti alla cinepresa per il video di Miu Miu Scenicque, linea di occhiali del brand. Nei cinque minuti di filmato, la modella cammina lungo il bordo della piscina prima di immergersi nell'acqua. . Ed è identica a sua madre. Il mese successivo, l'agenzia di modelle Ing Models annuncia di aver scritturato Kaia Gerber. . E, a settembre dello stesso anno, la porta sulle pagine di Vogue Italia. In pochi mesi, la figlia di Cindy Crawford raggiunge il successo. . 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